. Nuovi aggiornamenti sul caso di Pamela Mastropietro, 19 anni al momento della morte, la ragazza originaria di Roma uccisa un anno fa a Macerata Innocento Segale, 29, l'uomo di origine nigeriana al processo per l'omicidio della giovane, e al momento in carcere, avrebbe fatto una scioccante confessione ad un altro detenuto, tal Vincenzo Marino Il delinquente avrebbe dichiarato di essere uno dei leader dell'organizzazione criminale Black Cuts Affermazioni la cui veridicità è ancora da confermare. Certo è che fa riflettere come una persona nullatenente come l'Osegale possa permettersi il lusso di avere ben due avvocati difensori contemporaneamente Pamela Mastropietro. Le dichiarazioni di Marino su Osegale.Vincenzo Marino è detenuto presso il carcere di Ascoli Piceni, lo stesso in cui è rifluso in Ocento Segale Il marino ha rilasciato ai carabinieri confessioni raccapriccianti il guardo il nigeriano, attualmente al processo per l'uccisione di Pamela Mastropietro Il detenuto ha dichiarato due punti.Apostrofo sì, Osegale mi ha confessato il delitto. Mi ha detto di avere ucciso Pamela perché si era rifiutata di avere un rapporto sessuale a tre con lui ed Esmond, aveva minacciato di raccontare tutto alla polizia Tuttavia, le inquietanti dichiarazioni del nigeriano non terminano qui. Questi avrebbe confessato al Marino di essere inoltre uno dei capi della mafia nigeriana in Italia Osegale avrebbe detto di pungere da intermediario tra la cellula criminale di Padova e quella presente a Castelvolturno, Caserta Osegale avrebbe avuto peraltro il compito di trovare nuovi membri per la sua organizzazione criminale e di gestire il traffico di trasputute, e lo spaccio di sostanze stupefacenti Come se questo non bastasse, Tempo fa innocente avrebbe fatto al suo compagno di cella un infame proposta Ti dò 100.000 euro se testimoni che sai che Pamela è morta di overdose.Se Vincenzo Marino avesse accettato questa presunta offerta da parte di Innocent, sarebbe stato pregnato con dei soldi provenienti da Castelvolturno, che l'uomo avrebbe ricevuto tramite gli avvocati del nigeriano Chi è Vincenzo Marino.Vincenzo Marino è un ex boss della mafia calabrese, al momento collaboratore di giustizia Marino è stato compagno di cella di Innocent o Segale, presunto omicidio di Pamela Mastropietro I due detenuti hanno condiviso la stessa cella per circa due settimane. Sarebbe stato in tale periodo che Eusegale avrebbe confessato al Marino l'uccisione di Pamela per mano sua Marino è di base un testimone attendibile, in quanto in passato le sue confessioni hanno permesso l'arresto di numerosi affiliati all'Andrangheta calabrese Tali rivelazioni, se accertate, potrebbero pesare non poco sull'esito processuale nei confronti di Innocent